Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Agrigento oggi hanno dato esecuzione a un decreto con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto alla misura degli arresti domiciliari e dell'obbligo di dimora nei confronti degli appartenenti a un sodalizio criminale dedito all'illecito commercio di autovetture di seconda mano con contachilometri manomessi. Il nucleo poliziario economico finanziario della Guardia di Finanza di Agrigento ha condotto articolate investigazioni di polizia giudiziaria nei confronti di un'associazione a delinquere dediti alla sistematica realizzazione di truffe attraverso la manomissione dei contachilometri di veicoli usati al fine di attestarne una percorrenza inferiore a quella effettiva, così ingannando gli ignari acquirenti. Gli accertamenti svolti supportati dalle risultanze acquisite dalle banche dati in uso al corpo e corroborati da attività tecniche di intercettazione, indagini finanziarie di acquisizione di documenti presso enti pubblici, hanno permesso di acclarare la manomissione di ben 102 mezzi, ad esempio un'autovettura revisionata nel 2019 con chilometraggio pari a 466.000 è stata ringiovanita riportandola nel 2020 a una percorrenza di soli 166.000 km. L'artificio della decurtazione dei chilometri aveva come effetto finale quello di fare lievitare il prezzo di vendita degli autoveicoli stessi ceduti ai clienti per un corrispettivo complessivo di oltre 700.000 euro, assegnando loro una valutazione di mercato ben più alta rispetto a quella che avrebbero avuto con i chilometri realmente percorsi. In merito alle richiamate condotte delittuose è stata emessa dall'autorità giudiziaria un'ordinanza eseguita oggi dai finanzieri e avente con oggetto 4 misure personali, 2 arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora, nonché il sequestro preventivo di 3 aziende di Canicattì coinvolte nell'illecito traffico per un valore complessivo di circa 550.000 euro, nonché delle disponibilità finanziarie depositate sui vari conti correnti delle società L'odierna operazione conferma il perdurante impegno della Guardia di Finanza di Agrigento nell'ambito delle indagini delegate dall'autorità giudiziaria per il contrasto efficacemente alle frodi salvaguardare il tessuto produttivo sano del nostro Paese, rappresentando così un sicuro punto di riferimento dei cittadini onesti e delle imprese che rispettano le regole